In viaggio attraverso le fertili contrade dell'Indocina francese, diretti ad Hanoi, uno dei maggiori scali per rifornimenti bellici del generale Chiang Kai-shek, rifornimenti che i francesi hanno interrotto su richiesta delle autorità giapponesi. L'arrivo ad Hanoi. Procedendo verso il barco centrale, dove si trova la residenza di Wang Ching-wei, capo del nuovo governo. Il maggior generale Nashinara, capo della missione giapponese, dopo un colloquio col governatore generale francese. A Laokai, stazione di confine con la Cina di Chiang Kai-shek, gli ispettori giapponesi si recano al confine per esaminare la situazione. Ecco la ferrovia dello Yunnan, interrotta dalle autorità francesi e vigilata dalle truppe indigene. Kaipton. Grandi quantità di rifornimenti bellici giacciono ormai inutilizzabili sulle banchine del porto. Fine della supremazia britannica in Cina. Il primo scaglione di truppe inglesi lascia Shanghai con una malinconica parata spettacolare al campo di corse e attraverso le vie della città. Il primo scaglione di truppe inglesi la città.